Il comune di Salerno ha premiato Francesco Di Tacchio e Vittorio Parigini per i soccorsi immediati a Patrick Giszczek. Il 20 febbraio scorso il capitano della Salernitana e il calciatore dell'Ascoli furono i primi ad accorgersi del malore accusato dal polacco. L'intervento tempestivo assicurò tantissimo nel pronto recupero ed ecco l'encomio per i due atleti. È stato un gesto istintivo, ho ricevuto tanti messaggi dalla gente per essere passato quasi da eroe ma non mi sento assolutamente così. Il merito va dato anche ai medici che erano lì sul campo, a quelli che hanno contribuito ad aiutare Patrick. Però se proprio vogliamo dirla tutta, il grande eroe è stato proprio Patrick perché chi ha vissuto quegli attimi là ha visto comunque lo sforzo che ha dovuto fare per rimettersi. Ho lasciato qualcosa sicuramente nella mia vita però ripeto sono contento che Patrick stia bene e che presto possa tornare a fare quello che ama più di tutto. Un attestato ufficiale è la consegna di un libro di storia sulla città di Salerno, una cerimonia per sottolineare il valore del gesto del capitano Granata. È una cosa che riempie di orgoglio e dà allo sport una sua veste pedagogica. Cioè lo sport oltre ad insegnare la lealtà, l'altruismo insegna anche che ci sono dei gesti che non sono ascrivibili alla tifoseria semplice. Quanto prevalgono azioni di questo tenore credo che sia una cosa particolarmente significativa.